Sono appena iniziati i saldi in Sicilia e mentre le vetrine indicano le percentuali di sconto applicate in negozio, le famiglie cominciano a fare i conti con le spese da affrontare, a decidere come spendere e soprattutto quanto investire in queste settimane per effettuare i propri acquisti. Sono giorni attesi dai commercianti per incrementare le vendite, ma anche dai clienti che vanno a caccia delle occasioni per poter comprare qualcosa di più o meno necessario e rimpinguare armadi e non solo. Anche se facendo riferimento ai dati dell'Osservatorio Nazionale FederConsumatori, solo il 24% delle famiglie italiane comprerà qualcosa, si legge nel comunicato di FederConsumatori Sicilia, con una spesa media per famiglia di 178,60 euro, in calo del 3% rispetto ai saldi dell'anno scorso. In Sicilia, probabilmente, si precisa, queste cifre saranno ancora inferiori, visto il potere d'acquisto dei siciliani notevolmente sotto la media nazionale italiana. Nonostante il periodo di forte crisi economica, si pensi ad esempio al caro bollette o anche all'inflazione che ha ridotto di molto il potere di acquisto delle famiglie nissene, i saldi sono comunque una buona occasione per poter sostituire magari un capo usato o anche fare un acquisto di utilità. Per questo motivo è utile comunque mai, come in questo momento forse, seguire delle regole che sono più che altro del buon padre di famiglia, ossia non fermarsi al primo negozio, confrontare i prezzi con gli altri operatori del mercato, vedere il prezzo prima del saldo e dopo il saldo per confrontare che realmente ci sia stata una riduzione del prezzo. La normativa di settore, tra l'altro, in questi momenti si è anche evoluta, recependo una direttiva europea e introducendo delle normative di favore per i consumatori, quale ad esempio l'indicazione del prezzo degli ultimi 30 giorni. Tale indicazione non vale però, si ricorda, per gli acquisti dei prodotti agricoli ed anche per i beni deperibili e anche per i prodotti che sono nel mercato da meno di 30 giorni. Si ricorda comunque a tutti i consumatori che laddove dovessero ravvisare dei comportamenti scorretti da parte dei commercianti o comunque dei comportamenti ingannevoli, è possibile rivolgersi agli sportelli della fede del consumatori che sono attivi su tutto il territorio della provincia di Sena ed operano anche durante queste feste. Nel comunicato stampa, Fedel Consumatori Sicilia fa anche riferimento alle differenze di prezzo tra le vendite in negozio e l'e-commerce e al monitoraggio dei costi dei beni anche prima degli sconti. Fare questa cosa però oggi è sempre più difficile, si legge ancora, perché i prezzi dei prodotti cambiano in continuazione, con oscillazioni anche a due cifre percentuali, se parliamo di negozi online.